il nostro portiere del chiusi andrei bernardini brasiliano e ti vado subito a chiedere come affronterai domenica questo scontro importante in casa con il sansovino allora sarà un scontro diretto per la salvezza dobbiamo vincere per forza ma l'approccio sarà lo stesso una partita normale non possono pensare di troppo perché sennò sbaglieremo qualcosa comunque dobbiamo stare con la testa giusta il psicologico tranquillo per fare una partita bella come sempre da fama in casa la qualità ce l'abbiamo basta stare tranquillo e sapere come dobbiamo giocare come se ti sei trovato questo primo anno qui in italia visto che tu hai giocato all'estero e appunto dal brasilio dove giocato nella primavera di anche squadre più importanti e di categorie importanti come appunto tipo serie a e b mi sono trovato benissimo è una cultura più vicina a brasilia e mi sembra brasilia il calcio è più fisico più piace di più e anche che la promozione ma non sembra promozione è una categoria forte gli allenamenti sono buoni tutti questi giocatori in me sono molto buoni sono trovato benissimo bene allora ci auguriamo di continuare a vederti qui nei nostri campionati in bocca al lupo ciao